Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. E' la seconda giornata della Serie A Team. Inter e Palermo ci arrivano con 0 punti. L'Inter ha perso 2-0 in casa del Chievo. La prima giornata doppietta di Birsa. Nel secondo tempo il Palermo è stato sconfitto da un calcio di rigore realizzato da Berardi. Un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del sisma che ha colpito. Il taglio centrale. Si gioca il primo pallone. Giocato all'indietro dall'Inter. Iliamark va a calciare! E poi la mette incredibilmente fuori. A spazio Perisic. Il cross in area! Il controllo di Medele solo! Il salvataggio sulla linea di Golda Liga! Lancio profondo per Perisic. Va a chiudere Golda Liga. Perisic è in area di rigore. Perisic ancora rientra col destro. La finta col mancino! I pugni di Polsa pensa mettere palla in calcio d'angolo. Il cross al centro. La testa di Miranda! Con la palla fuori di pochissimo! Partebanega! Di testa Murillo! Fuori! Palla profonda per Nestorovski. Di testa! Andanovic lascia la porta vuota. Alesami attenzione! Il tocco di Nestorovski. Iliamark fuori! Uno contro uno su Alesami. Ancora Eder rientra. Si porta verso il centro. Eder il tocco! Il tiro di Medele! E' iniziato il secondo tempo. Iliamark dentro per Nestorovski. L'anticipo di Sant'Ona. Rispoli. La deviazione! Il gol! Il gol di Rispoli al 48esimo minuto. Il vantaggio del Palermo. Arrabbiatissimo! Andanovic perché il tiro di Rispoli è stato deviato! C'è Eder sulla destra. Il tocco centrale per Medele. Poi D'Ambrosio. Carica al destro! Posavec Corner! Fuori Perisic. Dentro Candreva. Il cross. Icardi! Fuori! Candreva. Il cross. Icardi! 72 sul cronometro! 48 per lui in campionato! Con la maglia dell'Inter! Si abbracciano anche i tifosi! E' uno a uno! Largo ancora per Candreva. Al centro Icardi. C'è anche Medele. Il cross di Candreva. La testa di Eder! Fuori di nulla! Tenta l'uno contro uno con Illemar che di forza Mianghe! Il cross per Medele! Poi Candreva la conclusione è alta! Finisce qua. Inter 1-1 Palermo. 1-1 Palermo.